Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva e siamo a un nuovo video di piante contro zombie Andiamo a incominciare Allora, vediamo cosa ci aspetta Dunque, questo qui ha vinto tutto Allora, vediamo un po' questa Che è sempre la nostra fonte di moneta Vediamo questi, questi qua, questi qua Poi vediamo Ah, queste sono quelle notturne, quindi non le guardo neanche Queste mi può interessare Mi dà un bonus, in pratica, di danno Queste, avete detto che sono molto utili Questa può essere buona E questa Però adesso andrei così Ok Senza piante acquatiche Ci vogliono per forza le piante acquatiche Per forza sì Perché Perché sì Perché se no io come gliele metto Giusto Proviamo a far così Vediamo come va Vai Ok Bene Diciamo che partiamo così Aspettiamo che ci dia qualcosa Perfetto Dai, produci Brava E adesso seconda Vedo l'ora di potenziale Queste qui così me ne danno due Ognuno E ho molto più moneta da spendere Perfetto I zombie stanno arrivando Ne ho 75 Arrivo, arrivo Stai tranquillo e rilassati Allora Eh, lo so Lo so Io sono contento di vederti Ma di più di mandarti via Perfetto Vai Benissimo Ok Vai E siamo a tre Adesso al prossimo metterò un attaccante Di gelo Così lo fermo Dovrei farcela Anche se è già qui Bene, bene Siamo a 100 Anche manca poco 125 Mettendo questo qui che rallenta Riusciamo A fare in modo che non ci arrivi da noi Perfetto Andiamo avanti Mi serve un altro di questi È perfetto È arrivato Figurati Mi tocca ovviare a un attaccante Siamo a 100 Dovrebbero Bene Bene Ne manca una Eh, lo so Brains Se si dà una mossa Perfetto Dovrei farcela E adesso Adesso pensiamo a un altro Irasole Ottimo Ecco qua Adesso Mi sta arrivando un altro Ma questo lo fermo Così posso pensare A mettere Le lillipat Le foglie Bene Bene Perfetto Adesso metto un altro Difensore Un altro attaccante Perché Ho paura che Mi arrivino qua E infatti 150 175 Ottimo Bene Manca solo un girasole E non lillipat Allora Ecco qui Perfetto E girasole Finiti Adesso pensiamo solo Alla linea Di attacco Benissimo Ottimo Ok Stanno arrivando Anche da qui Eh Speriamo Che mi tocca Mettere uno di queste Dovrei farcela Anche se ha il cappello Perfetto Ottimo Lo rallenta sufficientemente Qui Stanno Droppando Bene Mancano altre due Perfetto Ed ecco Fatta tutta La prima linea Di attacco Adesso facciamo la seconda Benissimo Devo rimetterci questi Questi li metto Alla fine Così mi potenza Tutti quanti Gli attacchi Col fuoco Bene Stiamo procedendo bene Intanto potrei già metterli Non so se questo è di gelo O meno di potenza Devo vedere Aspettiamo un po' E vediamo 275 Cerco di passare ai 300 Sarebbe meglio Se lo metto qua Potenziami quello Potrei provare Allora Vediamo prima di tutto Se potenzia Lo mettiamo qua Ok Ok Aspettiamo un altro po' Intanto mettiamo queste Perché serviranno Ok Se cominciasse a venire qualcuno qui Guarderei com'è questo potenziamento Vediamo un po' Arriveranno Intanto questi li metto Eh diventano normali Mmm Non è buono allora Purtroppo mi tocca toglierlo Togli il potenziamento Non è affatto buono Sì perché dopo le riscalda Logicamente Chi è questo coso? Allora Abbiamo visto che non è il caso Niente Cosa fa questo? Non ci credo Ok è morto Abbiamo visto che Bisogna mettere assolutamente Una linea difensiva qui Per quanto concerne questo Bisogna fare così È potenzialmente buono Ma non si usa questi Quindi dovrò fare Il prossimo livello Se voglio potenzialmente Non usare questi Non lo so Vedremo Perfetto Dovrebbe essere sufficiente Questo qui Ah ma adesso ci penso io E questo qui Perfetto Adesso dovremmo essere a posto Adesso dovremmo essere a posto Adesso dovremmo essere a posto Un 200 anche qui Non è su passato eh Però dovrei farlo Un Ho perso uno Perfetto Ok Ok Devo aumentare la linea di fuoco Metterò un 300 Questo qui Appena ho la possibilità E questi col delfino Sono un po' Ediosi Bene dai Sta cominciando comunque A prendere abbastanza Se riesco a fargli perdere un braccio Sarebbe già qualcosa Ok ce l'ho fatta Perfetto Eh questo Questo è il casino Questo mi sa che me lo mangia Beh ce l'ha fatta Maledizione Ok Niente Bisogna che Faccia così per adesso Non avevo calcolato Questi qua Ok Dovrebbe Bastare per adesso Qui facciamo così Ok Lui può fare solo un salto A quanto pare Bene Ottimo E Facciamo così Bene Adesso che ho capito Li medierò In qualche modo Ok Questo è quasi andato Ok Bene Bene Dai Ce la facciamo lo stesso Però È un po' così Ok Ok Dovrebbe farcela Dovrebbe farcela Dovrebbe farcela Sì Ce la sto facendo Perfetto Adesso appena posso Metto un altro attaccante Da 200 Troppo Troppo mi ha spiazzato Che non può essere scavato Che non può essere scavato Scavacato La mia dislessia Continua E avanza Ok Quindi questo non può essere scavacato Ottimo Così ne posso mettere solo uno Costa di più Ma ne vale a tutti quanti Ne costa 125 Assolutamente Si deve